Ma guarda questi! Ma cosa ti lamenti? Non sei ancora nato. Cosa ho da lamentarmi? Devo stare rinchiuso nove mesi a sperare che vada tutto bene. Mi possono fare esperimenti, uccidere, forse perfino duplicare. Insomma, non ho diritti. Ed io come devo stare? Zitto e muto. È possibile che non me ne freghi niente? Io sono uno di voi. Tu sei uno di noi.